Ce l'hanno detto anche in tedesco, questo è il paese del 4x4, è un paese di foreste, di fango, di neve. Pensateci domani mattina quando guaderete un fiume per portare i bambini, o quando scenderete dalle montagne per fare la spesa, o magari quando proverete a parcheggiare in centro. Panda Cross, Italia, Land of Panda. Panda Cross, tua con l'esclusiva formula 4Cross per una libertà senza confini.